Tre persone responsabili della morte di Marco Fortunato, il 43enne trovato cadavere il 21 agosto scorso sulla spiaggia libera in via Leuquosi a Mercatello. Si tratta dei vicini di casa nei cui confronti il pasticciere di Giffoni Secasali lo scorso 12 agosto aveva asporto querela per stalking. Nella serata di ieri i carabinieri della stazione di Giffoni Secasali hanno dato esecuzione all'ordinanza di applicazione di misura cautelare personale del divieto di dimora e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa emessa dall'ufficio del GIP del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura della Repubblica di Salerno nei confronti di tre persone dello stesso nucleo familiare di 64 anni, 36 anni e 60 anni, nello specifico AB, queste le iniziali AD e RC ritenute responsabili dei reati di concorso in atti persecutori e morte come conseguenza di altro delitto. Il provvedimento è scaturito dalle indagini avviate dai carabinieri della stazione di Giffoni Secasali dopo la querela presentata il 12 agosto scorso dai vicini di casa. Marco Fortunato trovato senza vita sulla spiaggia di via Leuquosi allo scorso 21 agosto e dalla moglie di 39 anni nei confronti delle persone oggi indagate con le quali si erano incrinati i rapporti già dal 2015 quando era avvenuto a una lite per una negata vendita di una stanza dell'immobile dove erano tutti i residenti. Motivo per il quale nel corso degli anni sono stati posti in essere incessanti comportamenti persecutori, minacce, offese pubbliche, pedinamenti e danneggiamenti tali da procurare un perdurante stato d'ansia e di profonda prostrazione psichica fino a spingere l'uomo Marco Fortunato a compiere l'estremo gesto il 21 agosto scorso allorquando fu trovato annegato in mare a Salerno. A dare un percorso alle indagini fu una lettera manoscritta successivamente trovata nella sua auto parcheggiata a Mercatello cui sviscerava tutte le paure e le ansie provocate dalle persone oggi indagate. La vicenda denunciata dai coniugi era stata anche confermata nelle sommarie informazioni delegate ai carabinieri del reparto procedente dalla complessa attività investigativa svolta.